Uno spettacolo evento, quello di oggi, a partire dall'eventuno, che vedrà aprire il sipario del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta per la messa in scena della Divina Commedia, per la regia di Aldo Rapè, che in chiave del tutto nuova ripercorre il viaggio del sommo poeta Dante. È una scommessa, perché mettere in scena la Divina Commedia in poco più di un'ora è una scommessa. Noi abbiamo fatto uno studio che è durato quasi un anno, già l'avevamo messa in scena lo scorso anno in una forma di studio. Quest'anno l'abbiamo ripresa e credo che vada vista perché Dante ci parla. Dante parla ad ognuno di noi. Lo fa in maniera semplice, molto popolare, non così complicata e ci dice che in questa vita c'è un inferno, c'è un purgatore e c'è un paradiso. In questa vita, non parla di altri mondi strani. Sta a noi scegliere da che parte stare, dove vogliamo vivere. Parla di noi, dei nostri vizi, parla del desiderio. Sono tre cantiche che hanno a che fare col desiderio, con la mancanza delle stelle. Non a caso Dante le tre cantiche ce le chiude con la parola stelle, non a caso. E ci dice che si può sognare, vivere bene proprio con i piedi per terra, ma con lo sguardo sempre rivolto verso il cielo. E poi ci racconta questa straordinaria storia d'amore tra Dante e Beatrice. Io, analizzando con i ragazzi, ci siamo detti che forse in verità l'ha scritto solo per questo, perché Beatrice Amore è giovanissima. Lui, innamoratissimo di Beatrice, si è inventato semplicemente 99 canti per rivederla e per poterla di nuovo riabbracciare. Quindi è anche una storia d'amore che raccontiamo. In scena con i 60 performers, giovani attori, danzatori e cantanti, anche gli attori professionisti Gioe Luca Mancuso e Carlo Greca. L'evento nasce dalla collaborazione tra Camper, Connessioni Prima Quinta, Fly Dance e Mast 79. E saremo anche nella stagione del Cineteatro Grivi di Enna, il 12 dicembre. La felicità è la prima e sempre solo negli spettacoli che proponiamo, intanto puramente didattica e semplice. far tirare fuori dai cassetti che abbiamo proprio la Divina Commedia per andarla a rileggere, perché è realmente contemporanea. Quando l'abbiamo presentata abbiamo detto che è una commedia pop, ma penso che sia così.